La famiglia di Giulia Ballestri, la giovane donna uccisa per mano del marito Matteo Cagnoni, nella villa abbandonata di Via Geniocchi, a Ravenna, parla attraverso la nota inviata dall'avvocato Giovanni Scudellari. Poche righe in cui i familiari chiedono ai mezzi di informazione di rispettare l'assoluto riservo nel quale vogliono affrontare questi tragici momenti, anche per tutelare i figli di Giulia. Ogni notizia utile alle indagini verrà esclusivamente e direttamente rappresentata dall'autorità giudiziaria, è scritto nella nota, augurandosi che analoga condotta venga tenuta anche dalle persone che hanno conosciuto Giulia, molte delle quali in queste ore hanno già manifestato nei suoi confronti un affetto immenso e commovente. Per quanto riguarda l'intervento della famiglia nel procedimento penale in corso, l'impegno maggiore sarà diretto a far sì che la memoria di Giulia venga ricordata ed onorata in ogni momento.